Sarà la comicità dell'artista palermitano Maglio Dovì ad animare il pubblico dell'Arena Re di Campo Felice di Rocella venerdì 22 luglio alle 21.30 con lo spettacolo Facce Ride Show. Se è vero che gli scienziati hanno curato la nostra salute, ebbene, signore e signori, il teatro vi curerà l'anima. Maglio Dovì nel suo spettacolo scritto con Antonio Di Stefano inizierà esattamente così, con un pizzico di presunzione ma con tanto desiderio di essere nuovamente on stage. Un racconto in anellato di battute su quello che abbiamo vissuto e come siamo cambiati dopo il lockdown. Un mix di comicità esilarante fatta di canzoni, battute, monologhi, imitazioni, che rapirà il pubblico in 90 minuti di performance. Adesso che ci hanno riaperto, noi dobbiamo tuffarci nei teatri, tuffarci nel senso perché col sudore io eviterò durante gli spettacoli all'inizio siete caldi, lo eviterò sistematicamente, gli spettacoli siciliani perché visto che non si può andare all'estero perché la situazione è esplosiva, rimaniamo in Sicilia. Oltretutto vengono anche dal nord, quindi noi non c'è questa cosa nord-sud, nord-sud. Io stesso mi sono fidanzato con una ragazza di Savona perché mi disse speranza durante il covid, attenzione al distanziamento, quindi Palermo-Savona, mi sembra. Però lei sarebbe preso, io no. Detto questo, vi aspetto, noi cerchiamo di farvi sorridere, di ridere e sempre di aggiornarci in base a quello che succede. Scusate, un missile che è passato, ma dobbiamo abituarci al caldo e a questi missili. Quindi vi aspettiamo, con questo faccia di ridere non sarò solo perché di volta in volta saremo anche a Selinunte, saremo a Messina, Catania, Trapani, sarò anche a Capri, però qui non so se si vede pure a Capri perché lo spettacolo deve essere di tutti, non ha confini. Quindi giù la mascherina e sulla maschera, no? Giù la maschera e su... Insomma, pirandellianamente ognuno di noi ha la maschera, ma in questo spettacolo si viveranno le nostre battute, le vostre battute di mani e vi aspettiamo tutti io e tutto il mio entourage.